buongiorno a tutti sono luca brambilla direttore dell'accademia di comunicazione strategica e il 10 maggio alle 18 45 avrò il grande piacere di essere vostro ospite con gli amici di demetra in una location meravigliosa l'ambrosianium dietro il duomo e finalmente in un evento in presenza mi permetto di fare un piccolo spoiler su quello che accadrà in questo evento organizzato dall'accademia e da demetra l'evento sarà organizzato in tre macro step il primo prevede una breve verticale docenza una lexo magistralis tenuta da me sul passaggio da comunicazione efficace a comunicazione strategica in cui racconterò come questa materia sta rivoluzionando il mondo delle relazioni siamo infatti in un mondo sempre più complesso e interconnesso e per raggiungere obiettivi sfidanti occorre costruire una rete di relazioni strategiche che ci permettano di raggiungere quegli obiettivi che da soli attraverso la cosiddetta comunicazione efficace non saremo in grado di raggiungere nel secondo slot invece della serata avremo un Q&A domande e risposte per confrontarci assieme su quelle che sono le vostre curiosità i vostri obiettivi quindi magari parleremo di come costruire una carriera come negoziare al meglio a seconda del contesto della sistemica in cui ci si trova come migliorare la prima impressione o viceversa come costruirsi la possibilità di dare una migliore impressione lì dove la prima non è stata buona insomma lasceremo spazio alla vostra curiosità le vostre domande e sarà sicuramente una parte per me ancora più interessante dell'Alex Magistralis dell'inizio infine la terza parte quella a cui sono più curioso di partecipare ovvero un buffet in presenza avremo quindi modo di conoscerci continuare a confrontarci fare networking tra di noi e finalmente mettere in campo sul serio quello che abbiamo visto prima in teoria cioè costruire relazioni che ci permettano di andare lontano vi aspetto quindi il 10 maggio con grande piacere con tutti gli amici che stanno organizzando questo bellissimo evento a presto